Devi sapere che una sera mi trovo in macchina con una, no? Una mezza sposata, una che c'è in una situazione strana con uno, un bel ragazzo pure lui, no? A un certo punto, all'altezza di quell'incrocio, devi vedere proprio un motorino partì proprio in volato, no? In decollo, no? E ricaschiava proprio gi... Sopra c'è stava un ragazzino, e la macchina, quella che gli ha dato la botta, no? Per te sta coda si è messa a girare così, come una trotto, no? A un certo punto te sento un botto, uno schianto, scendo, e il ragazzino è proprio finito, ma non esisteva più, cioè fisicamente era proprio disintegrato. Ma tu devi vedere la macchina come eri tutta, ma ciò, lo guarda, ti giuro! Tutto, tutto, tutto. Ma che sai, fammi finito, era proprio come una scatola di sardine, no? E in mezzo a Stefano io c'è stava, l'uomo e una donna, lui l'uomo, no? All'inizio sembra aveva dovuto tutto quanto a schiatti, così, proprio come una marionetta, aiuto, salvatemi, così, no? E' una contrazione nervosa. Tutti i denti per terra, proprio come se fossi stata una grandinata, schizzi da sangue sull'unotto, sul cuscotto, a un certo punto esce fuori un vecchio che fa, dice, presto dice, chiamate un'ambulanza, Ma che chiama? Dico, non vedi che questi c'erano siano 30 secondi di vita. Au, so passati 20 secondi, so spirati così, proprio a un'isono. Mortacci, glulu.